Bene, sono le 18 e 10, quindi benvenute, benvenuti, bentrovate, bentrovati per chi ha partecipato ad altre iniziative. Questa sera facciamo la prima di due incontri di formazione, il prossimo sarà fra 15 giorni, cioè lunedì 20 allo stesso orario, il prossimo sarà sulla sanità. Quello di stasera l'abbiamo chiamato Riprendiamoci il Comune a partire dall'energia, diciamo un incontro in cui vogliamo mettere in campo che cosa si può fare qui ora e da subito concretamente per una riappropriazione sociale di quello che dovrebbe essere un bene comune l'energia e che non lo è più da tempo perché da una parte è privatizzato, cioè messo in mano al mercato e dall'altra è gestito, diciamo, tenendo pochissimo conto, anzi direi quasi nulla, delle necessità di una vera transizione ecologica, cioè si parla di transizione ecologica ma in realtà quasi sempre nella narrazione dominante si intende semplicemente che anche il cambiamento climatico va affrontato attraverso il mercato con un po' di innovazione digital o green e poco più. E allora oggi noi vogliamo affrontare questi due poli del problema e quindi abbiamo invitato Guido Viale che è presente e ringraziamo per farci un quadro diciamo sulla transizione energetica, quindi su cosa sarebbe necessario e quale inversione di rotta va messa in campo e poi subito dopo daremo la parola a Alessandra Filabozzi e Vittorio Rovera che presentano l'esperienza concreta che stanno mettendo in campo, che hanno già avviato, quella di una CERS, quindi una comunità energetica rinnovabile e solidale, in particolare la loro esperienza si chiama Illuminati Sabina e ci racconteranno come si fa a fare una comunità energetica rinnovabile ma aggiungo solidale, quindi non è semplicemente una questione tecnica, poi ci spiegheranno ovviamente molto meglio loro, che cosa vuol dire costruire certo un cambiamento energetico ma costruendo soprattutto comunità. Io chiuderei qui l'introduzione e chiederei subito invece a Guido Viale di aprire un po' il ragionamento che poi vedrà l'esperienza concreta facendoci un po' un quadro dal suo punto di vista dell'attuale situazione e della transizione energetica necessaria. Guido ti darei 20 minuti più o meno organizzare il ragionamento e poi passiamo la parola all'esperienza concreta della Sabina. Chiederei a tutte e tutti di tenere chiusi i microfoni, io quando li vedo aperti li chiudo ma se li auto chiudete voi mi risparmiate una parte del lavoro, lo dico perché siccome poi attiva la registrazione e i microfoni sono accesi è un problema. Chiudo qui è benvenuto Guido e ti darei la parola. Allora intanto buonasera, grazie di avermi invitato e di avermi chieduto questa responsabilità piuttosto pesante. In realtà parlare di conversione ecologica, di transizione ecologica, un saluto di conversione ecologica diventa sempre più complicato mano a mano che gli ostacoli che si frappongono invece di diminuire aumentano nonostante che ci avviciniamo sempre di più a un punto di non ritorno. Allora dirò delle cose abbastanza generali e soprattutto abbastanza banali, però forse mettendole tutte insieme si capisce invece la dimensione complessiva del problema. Intanto vorrei iniziare concentrandomi sulle tre parole, anzi quattro dicendo solidale ma implicite in quello che stavo per dire con cui si denominano le comunità energetiche rinnovabili. Innanzitutto c'è il termine energia, cioè l'ambito in cui la transizione ecologica, la transizione ambientale è più urgente perché il problema dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici in grandissima parte dipende dalle questioni energetiche e come sappiamo incombe la minaccia di raggiungere troppo presto un punto di non ritorno dopo il quale sarà molto più difficile capire ed è molto più difficile capire quello che succede. rinnovabile. Certo non è l'unico ambito della transizione ma è il più importante. Rinnovabile vuol dire chiudere per sempre l'epoca dei combustibili fossili e questo cambiamento è molto importante perché impone una radicale inversione di paradigma nei processi economici sostituendo dall'economia di scala fondata su grandi impianti, grandi reti e grandi investimenti e quindi centralizzazione del controllo economico. Mi sentite? Pronto? Sì sì, come al solito qualcuno ha acceso il microfono. Invece arrivare a una organizzazione della generazione e dell'utilizzo dell'energia più distribuita nello spazio e nel tempo, più differenziata tra le diverse fonti e le caratteristiche che ogni territorio offre allo sfruttamento di particolari fonti energetiche e soprattutto più egualitarie. E quindi questo è un sovvertimento abbastanza radicale del modo in cui è organizzata l'economia attuale. Non è un semplice fatto tecnico e comporta un cambio, come ho detto, di paradigma. Attraverso la costituzione di comunità la transizione, la conversione ecologica, eccetera, dall'energia finisce per investire anche in molti campi. Innanzitutto quello del dell'agricoltura e dell'alimentazione che ha già sperimentato e messo in atto dei processi attraverso i gas e altre cose di organizzazione comunitaria, egualitaria e distribuita dell'approvvigionamento alimentare, eccetera. Però anche il campo della mobilità, della costruzione, della gestione delle risorse, dell'assetto del territorio sono terreni che potrebbero essere investiti da questo cambio di paradigma. Il termine fondamentale è però comunità. Qui dentro comunità associa il termine comunità direttamente, il termine solidale che non è considerato nel termine CER, nel cronimo CER, ma che comunque è implicito nel termine stesso di comunità. La comunità è secondo me al tempo stesso il medium, il mezzo e il fine della transizione. Il medium è il mezzo perché senza comunità, cioè senza partecipazione del basso e senza conflitto con chi si oppone alle forme di questa partecipazione del basso e chi vorrebbe smembrare le ipotesi e i tentativi di costruzione della comunità, la comunità non si dà e l'abbiamo dovuto constatare in oltre 30 anni, cioè la transizione dall'alto, 30 anni che se ne parla e di fatto è ancora, non dico al punto di partenza, ma molto indietro rispetto agli stessi calendari che si era dati. Però la comunità è anche il fine perché la combinazione di partecipazione dal basso e di conflitto con l'alto è l'ambito della realizzazione più piena della persona e della libertà e fa della transizione alla sostenibilità una vera e propria conversione ecologica. Nella prospettiva di una iniziativa dal basso, che necessariamente di ambito prevalentemente locale, che tende a legare, anche se non in forma esclusiva, ogni comunità al territorio di riferimento e al governo locale in maniera diretta o conflittuale e poi però a mettersi in rete fra le diverse comunità c'è la prospettiva di una realizzazione dei passi necessari alla transizione economica. Questo è un punto molto importante, da una gestione comunitaria, cioè condivisa, partecipativa e al tempo stesso conflittuale di una comunità energetica e poi di altre comunità in ambiti diversi come quello agricolo, alimentare, della mobilità e della settore del territorio, può scaturire anche la domanda per sostenere la riconversione in molte delle produzioni manifatturiere che possono essere ricollocate, rilocalizzate in tutto o in parte all'interno del territorio delle comunità più attive. L'esempio più classico è che lo sviluppo della generazione energetica attraverso le comunità e attraverso le energie rinnovabili danno poi un impulso alla domanda di tutte le strumentazioni necessarie per realizzare questo, cioè i pannelli solari, gli installatori di pannelli solari, la loro manutenzione, le paleoliche di tutte quante le dimensioni e così via. Lo stesso vale per il discorso sulla mobilità, a maggior ragione perché l'abbiamo già sperimentato per il campo agroalimentare, ma anche nell'assetto del territorio quando la questione potrà essere presa in mano e dove può essere presa in mano da una comunità, cioè da una rete di persone che si concentrano in maniera solidale su questi obiettivi. Anche in questo caso molte delle attrezzature, delle apparecchiature necessarie alla portare a termine questa operazione possono essere, la domanda può essere attivata proprio attraverso questi mezzi. L'altra cosa che mi premeva mettere in luce è che ovviamente un'ipotesi di questo genere di una transizione spinta prevalentemente dal basso e non promossa dall'alto, eccetera, non può avvenire che, per così dire, a macchia di aeropardo. C'è alcune comunità che si muovono prima, altre che si muovono dopo e mano a mano che le condizioni esterne impongono delle soluzioni, perché quelle tradizionali non funzionano più, mettendosi in rete le comunità pioniere hanno esperienza, conoscenza e capacità tecniche e personale per aiutare le altre comunità a mettersi in rete. Però la comunità è anche quello che permette di costruire i rapporti di forza, intanto per elaborare delle piattaforme rivendicative di carattere generale, perché noi non puntiamo esclusivamente sull'attività delle comunità e sul loro rapporto localistici, anche se questa è la premessa di tutto. Ma indubbiamente questo si deve tradurre poi in programmi e rivendicazioni di carattere generale. E dove si ricava la forza per portare avanti queste rivendicazioni, indubbiamente senza comunità non si può fare. Cioè, semplice ricorso a liste partiti politici o a un associazionismo non radicato nel territorio non sono sicuramente sufficienti a realizzare la forza necessaria a portare avanti questi obiettivi. altro problema che ci viene sempre solo. Chi pagherà i costi della transizione? Costa troppo cara, ci dico. Quindi bisogna assolutamente rallentarla perché se no si finisce per imporre al sistema economico dei costi tali da non farlo funzionare più. Intanto i costi che vengono esposti dai nemici o dai rallentatori della transizione energetica e della transizione ecologica andrebbero verificati. Intanto non tengono mai conto né dei benefici né dei guadagni né dei risparmi che vi sono connessi. Ma soprattutto la salvaguardia del sistema economico che ci ha portato a questo disastro non può essere un obiettivo per noi accettabile. Poi non basta, anche se assolutamente indispensabile, andare a cercare la copertura delle risorse necessarie agli investimenti per portare avanti la transizione energetica e la conversione ecologica nelle soluzioni spesso prospettate di una tassazione più progressiva, di una lotta all'evasione e la rinuncia alle tante grandi opere inutili. Certamente queste cose sono indispensabili, sono la premessa, ma il discorso secondo me è valoriciato. Se l'orizzonte entro cui dobbiamo riportare tutte le attività in cui siamo impegnati, che ci coinvolgono nella vita quotidiana, coinvolgono i comuni, coinvolgono le comunità e la sostenibilità, la priorità va sempre data agli investimenti indispensabili. Abbandonando in maniera programmatica e senza lasciare per strada i relativi addetti, apriendo cioè la strada alla loro ricollocazione o comunque un reddito di transizione, tutte le attività incompatibili con l'obiettivo principale. Vabbè, non faccio l'elenco, si parte dall'industria delle armi, ma molte altre cose che caratterizzano la nostra vita quotidiana, hanno sicuramente bisogno di essere ridimensionate. Dall'auto personale alle imbarcazioni private, il turismo compulsivo, le crociere, i viaggi aerei, i superfi, l'infrastruttura, il consumo di carne, lo spreco di materiali, materie prime e tante cose. In altre cose bisogna, affrontando il problema della costruzione delle comunità in una prospettiva di conversione ecologica, bisogna avere la capacità di spiegare che niente sarà più come adesso e che questo può aprire la strada a una vita migliore, più ricca di relazioni, più ricca di esperienze, eccetera, anche se più sobria e meno ricca di consumi. L'ultimo problema che volevo affrontare è un altro degli argomenti, oltre al costo, che viene spesso sollevato per rallentare o sostanzialmente inibire i processi di transizione ecologica. Cioè se anche l'Italia, che ha l'1% delle emissioni climalteranti, o l'Europa, che copre più o meno dove il 10% di queste, rispettasse gli impegni che hanno preso, cosa che non succede, oltre ad altri paesi non lo faranno, e le emissioni di gas di serra comunque continuerebbero e la terra continuerà a riscaldarsi per anni. E che cosa vuol dire questo? Anche se improvvisamente, cosa che non succede, se cessasse oggi stesso l'emissione di gas climalteranti, il processo di riscaldamento continuerebbe per parecchi decenni, anche se forse a ritmi meno veloci di quello che ha manifestato negli ultimi anni. Cosa vuol dire? Che le calotte polarie e i ghiacciai continueranno a sciogliersi, il livello degli oceani comunque ad alzarsi, sommeggendo milioni di chilometri quadrati di terre, i fiumi non riceveranno più acqua a sufficienza, il permafrost continuerà a emettere metano nell'atmosfera, quando un feedback e gli eventi estremi, che sono gli uragali, le alluvioni, le grandinate, le andate di caldo, le siccità, gli incendi, eccetera, sono destinati comunque a moltiplicarsi. Cambiano anche le correnti degli oceani e le correnti aeree e cambia con essi il tempo, non il clima ma il tempo, quello locale su cui noi siamo abituati a organizzare la nostra giornata. E quindi cambierà anche la vita quotidiana. Le comunità, grandi o piccole, che si saranno messe in grado di attrezzarsi per adattarsi in qualche modo alle condizioni di vita più difficili che si prospettano, la vita in condizioni molto più ostiche, saranno nella condizione di poter guidare e fare delle apri piste per quelle che si dovranno mettere alla colla. E tutto ciò mette all'ordine del giorno il cambiamento climatico, facendone una priorità non solo le misure di mitigazione, cioè l'intervento sulle cause del cambiamento climatico, ma anche, forse in maniera anche maggiore, le misure di adattamento alle condizioni sempre più difficili in cui si svolgerà la nostra esistenza. Queste misure di adattamento non saranno i governi a prendersene cura e quindi dovranno essere le comunità. Per questo diventa il nodo fondamentale della transizione ecologica. Lo vediamo un pochino già all'opera, un possibile processo di costituzione di queste comunità nelle situazioni colpite da un disastro ambientale dove attraverso la solidarietà, quarto termine delle comunità energetiche rinnovabili e solidali, anche se in questo caso non si tratta di comunità energetiche, ma si creano delle mobilitazioni che possono costituire l'embrione di costruzione della comunità che poi piano piano investa anche tutti gli altri aspetti della vita quotidiana. L'ultimo problema relativo appunto alle condizioni sempre più gravi a cui andiamo incontro è che ne sarà delle migrazioni. Allora qui apro un discorso, forse qualcuno di voi l'ha già vinto. Io l'ho visto, io ho letto i due unici libri tradotti in italiano in cui si cerca di costruire una visione, una prospettiva del come sarà il mondo entro la fine del secolo. Comunque vadano le cose anche, come ho detto prima, le emissioni climalteranti cessassero domani. Il che non è, il primo libro è di Caia Vance, il secolo nomane di Bollati Boricchieri, spiega che entro la fine del secolo la metà più popolata del pianeta sarà inabitabile per le temperature troppo elevate o perché sommerso dal mare o tormentata da guerre che hanno nella crisi ambientale delle loro radici più profonde. ci saranno centinaia di milioni o forse miliardi di profughi e di migranti che cercheranno scampo nell'emisfero ancora vivibile, che è quello settentrionale e reso forse più coltivabile, più vivibile da un clima più mite per effetto del riscaldimento globale. Questa è anche la visione dell'altro libro che ho letto, Il movimento del mondo di Parac Canna, edito da Fazzi, sono usciti tutti e due l'anno scorso, è più articolato perché poi dice che invece in realtà grazie alla tecnologia, cioè alle energie rinnovabili, ma anche alle culture idroponiche, anche all'aria condizionata, anche alla desalianizzazione dell'acqua e del mare, e ovviamente grazie anche al danaro e alle competenze tecniche e tecnologiche eccetera, alcuni enclave del mondo surriscaldato potranno continuare a rimanere vivili, in particolare parla degli stati del Golfo e di alcune città degli Stati Uniti perché avrebbero a disposizione queste cose. E comunque per chi non è qualificato e per chi non ha le risorse per partecipare di queste comunità, chiamiamole egoiste e poco solidari eccetera, cioè per la maggior parte delle persone, l'emigrazione verso l'emisfero nord del pianeta sarà in dubbio. E questo apre l'ultimo punto che vorrei semplicemente accennare e non sviluppare, è che la comunità è secondo me l'ambito più adeguato per accogliere e dare soluzione al problema delle emigrazioni. L'altra è la fortezza Europa, fortezza Stati Uniti e così di questo genere, cioè il respingimento che in una situazione di queste dimensioni non può che tradursi in una guerra sempre più crudele e sfrenata e di carattere decisamente nazista eccetera, per cercare di fermare lungo i confini e lungo le coste questa onda sempre più grande di emigranti che si prospetta. Ovviamente se la cosa avverrà in maniera graduale con l'accoglienza comunità per comunità alla fine i problemi si potranno affrettare forse anche avvicinare di più il momento in cui le cose possono in qualche maniera cercare di invertirsi, se invece le si lasciano andare per il verso, cioè il problema della transizione ecologica è indissolubilmente legata al problema di come accogliere e come affrontare il problema delle emigrazioni che saranno sempre più intense e sempre più grave. Grazie Guido sia per la chiarezza dell'esposizione sia per il rispetto dei tempi. Guido ha fornito un quadro che dice l'urgenza e la necessità di muoversi dal basso per mettere in campo un'inversione di rotta concreta e quindi io darei subito la parola a Vittorio Lovera e Alessandra Filabozzi, ora non so come vi siete organizzati, ti parla per prima ma insomma tanto siete lì insieme quindi decidete voi e ci raccontate la vostra esperienza. Prego. Grazie, allora comincio io e l'idea era quella di raccontare la nostra esperienza prima a partire da l'idea più generale di cosa sia una comunità energetica e poi entriamo nel dettaglio di come noi abbiamo declinato questa idea di creare una comunità energetica rinnovabile in Sabina. La Sabina è una zona che si trova in prossimità di Roma, raggiunge fino a Rieti e noi ci troviamo in un comune, in un'azienda tricola, una piccola comunità, un piccolo paese che si chiama Montopoli di Sabina. Quindi prima di tutto volevo illustrare un attimo condividendo lo schermo così mi aiuto con quello che ho preparato. Dunque vediamo se si vede. Ecco qua. Ho preso alcune slide dal sito di E Nostra che è una cooperativa sociale che si occupa proprio di distribuire, vendere energia elettrica alle famiglie e energia elettrica che è creata da punti rinnovabili. Quindi molti membri della comunità tra cui noi, per cosa è costituita, abbiamo scelto come gestore dell'energia, in questo momento come provider, questa cooperativa proprio perché risponde anche ai nostri criteri etici di produzione e consumo dell'energia. Quindi sul sito di E Nostra si possono trovare molte spiegazioni su cosa è una comunità energetica rinnovabile. Questa idea di poter creare le comunità non è una novità. Infatti comunità di energie rinnovabili avevano già perché alcuni decreti, quindi alcune leggi europee che sono state recepite poi dagli Stati hanno permesso la creazione di queste comunità. Che cosa significa una comunità energetica? Significa poter produrre, consumare, accumulare e poi vendere energia prodotta in modo rinnovabile. Sostanzialmente le persone che si mettono un pannello sopra la testa in casa propria potevano già condividere l'energia e scambiarla, ma tutto questo aveva all'interno di confini piuttosto limitati che erano quelli definiti da una cabina che si chiama cabina secondaria, cioè una cabina di bassa tensione che quindi raccoglie persone che si trovano più vicine. Con un decreto il legislatore europeo ha inteso allargare questa possibilità a confini più ampi e quindi è permesso ora di poter costituire comunità energetiche tra membri che siano collegati a una stessa cabina che si chiama primaria e cioè di alta e media tensione. Questo fa sì che questa possibilità connette persone che si trovano anche territorialmente diffuse su territori più ampi. Normalmente queste cabine connettono tra le 40 e le 70 mila persone, ma più o meno la città è divisa in settori che accomunano circa 70 mila persone. Qui in provincia più o meno siamo sulle 40 mila. Come si fa a condividere l'energia che non viene autoconsumata? Si fa creando un ente, un'entità che è appunto la comunità energetica che si deve organizzare in una forma giuridica che può essere ente del terzo settore o cooperativa, cioè una forma che consenta alle persone di associarsi in maniera formale. Chiaramente queste persone quindi si associano sulla base di uno statuto, questo crea appunto la comunità, nel senso che in questo statuto vengono stabilite delle regole che sono valide per tutti per potersi considerare CER, comunità energetica, rinnovabile. Poi in particolare si possono aggiungere dei criteri che renderanno unica quella comunità e in particolare le comunità energetiche rinnovabili solidali sottolineano un aspetto che è già presente nella normativa, cioè quello che prevede una parte solidale della costituzione della comunità. Prima di tutto l'obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, cioè utilizzare energia prodotta in maniera pulita, rinnovabile, quindi non si prevede solo energia creata, prodotta da fotovoltaico, anche l'eolico è previsto per esempio. E consumarla localmente, localmente in questo ambito che appunto abbiamo definito prima, poi mostrerò anche delle piantine per far vedere che cosa vuol dire questo territorio, che cosa indica il territorio previsto da una cabina primaria. Ci sono inoltre degli effettivi economici che sono connessi all'aderire ad una comunità. vediamolo nel dettaglio. Intanto, questo un po' riassume questa slide quello che avevo già detto, ci sarà un beneficio sia per la comunità stessa, ma anche ambientale e sociale. Chiaramente tutto questo è basato sull'adesione volontaria alla comunità. Ora, ogni persona che aderisce alla comunità può farlo sia essendo un produttore, sia essendo un produttore e consumatore, sia essendo solamente un consumatore, cioè può aderire alla comunità anche qualcuno che non è dotato di pannelli fotovoltaici sulla propria testa. E anzi, questo è stato uno degli stimoli che ci ha portato a creare la comunità, perché in molti dei paesi non si possono mettere pannelli fotovoltaici sui tetti del centro dell'abitato di un paese per motivi estetici. E quindi la nostra idea è partita proprio dal poter utilizzare un capannone che era un fienile della nostra azienda agricola e poter mettere a disposizione della comunità questo tetto per un impianto comune. Ora, la normativa ha preso il via molto tempo fa, diciamo che gli ultimi passi sono mostrati in questa diapositiva, siamo partiti dal dicembre 2018 e man mano si sono aggiunti decreti riceviti dai vari stati che hanno consentito la messa in pratica, l'applicazione delle comunità energetiche. Gli ultimi, questi che vi mostro ora, sono proprio quelli che sono usciti con l'ultimo decreto, questo indicato dalla freccia, entrato in vigore proprio il 24 gennaio di quest'anno, che ha finalmente messo in chiaro quali sono proprio gli aspetti fondamentali anche che deve avere lo statuto per poter essere accettato dalla gestore elettrico dell'energia nazionale e poterci definire comunità energetica. Ora, come vi dicevo, questo nostro nuovo decreto prevede che la cabina che si occupa, diciamo, dello scambio dell'energia sia una cabina primaria. La potenza dell'impianto può arrivare fino a 1000 kW di potenza, cosa che quindi ha ampliato il limite precedente che nella normativa di transizione era soltanto di 200 kW di potenza. Quindi questo consente anche di creare impianti molto più grandi. Ora, il concetto di energia condivisa, sul quale è basata proprio l'idea dell'incentivo e quindi l'idea economica per la comunità del poter scambiare energia, è basata sul fatto che l'energia elettrica che viene prodotta, vedete, è indicata da quella linea azzurra. Questo è un esempio tipico della produzione di energia elettrica da parte di un impianto fotovoltaico nelle diverse ore della giornata. Come si vede, durante la notte non si produce e si produce molto di più nelle ore centrali della giornata. Ecco, i prelievi che sono effettuati da parte di tutti i membri della comunità sono rappresentati da quelle barre arancioni. Quindi i prelievi sono distribuiti in tutta la giornata, dalla mattina fino alla sera. E la parte che interessa, cioè la parte che interessa la comunità, in base alla quale vengono computati gli incentivi economici, è quella che viene indicata in arancione. Cioè solo la parte di energia che viene consumata dai membri della comunità nel momento stesso in cui viene prodotta, è rappresentata da quella barra arancione, quella sarà l'energia che viene supportata da un decreto che per vent'anni prevede questi finanziamenti che arrivano dalla comunità europea agli stati fino alle comunità stesse. Quindi è essenziale fare un progetto, un piano di fattibilità della comunità, capire quali sono i consumi di tutti i membri della comunità, metterli insieme, valutare quindi questo schema per la comunità di riferimento. Per far questo noi proprio abbiamo raccolto le bollette di tutti i soci, abbiamo visto qual era il loro consumo orario mensile, e è stato fatto uno schema di questo tipo. In base a questo è stato progettato l'impianto comune e anche la necessità di tutti gli impianti di cui la comunità si voleva aiutare per ottimizzare il consumo dell'energia condivisa. Ora, quali sono questi benefici economici? perché si è creato anche una gran confusione su questo tema, cioè molte aziende, molti si sono proposti ai singoli cittadini proponendo di costituire, di farsi tramite per la costituzione di comunità energetiche ventilando le ipotesi di grandi guadagni. Ecco, quello che noi abbiamo capito è che non ci sono grandi guadagni economici, ci sono vari aspetti che sono interessanti perché c'è una parte di risparmio energetico, c'è la presa di coscienza da parte dei cittadini membri della comunità del fatto che bisogna ridurre i consumi e consumare durante le ore in cui viene prodotta l'energia in maniera rinnovabile e poi c'è un grande incertivo che è quello della creazione della comunità. Ora, quali sono i guadagni di un impianto fotovoltaico messo dentro una comunità energetica? Prima di tutto, il primo guadagno per chi lo fa per sé è l'energia autoconsumata e quello è il primo guadagno sicuro, che non sta neanche in questo schema. L'energia in eccesso rispetto a quella che viene autoconsumata viene vendita in rete in base al prezzo zonale orario dell'energia cosa che dipende appunto dalle zone e questa tariffa appunto è variabile che varia tra 80 e 180 euro a megawattora indica proprio l'energia che viene venduta. Come vedete, questo dipende proprio solo dalla produzione dell'impianto e dura per tutta la vita utile dell'impianto. A questo si aggiunge un altrettanto, cioè una tariffa premio che varia tra 80 e 120 euro a megawattora e che dipende proprio dall'energia autoconsumata dalla comunità cioè quelle barre rosse che ho mostrato prima cioè se la comunità durante le ore di produzione consuma 3 megawatt ora questi vengono finanziati con un pagamento aggiuntivo che viene versato direttamente nelle casse della comunità. questo dura 20 anni. A questo si aggiunge un altro piccolo contributo che è la restituzione della componente diciamo relativa al trasporto dell'energia che è un contributo aspettate che sto vedendo un attimo ecco, è la componente arera questa e questo vale 8 euro a megawattora e dipende chiaramente da un incentivo per il fatto che l'energia viene consumata localmente e non si va ad intasare la distribuzione la rete di distribuzione dell'energia tutto questo ovviamente vale virtualmente cioè quello che noi sottolineiamo è sempre il fatto che non è che l'elettrone prodotto da me va al mio socio esattamente è un compito che il GS flore elettrico fa dell'energia che viene consumata e dell'energia che viene prodotta e sulla base di questo compito che viene fatto mese per mese questo incentivo l'incentivo, la tariffa premio del Mase e la restituzione della componente arera vengono versate nelle casse della comunità ecco questo è uno schema che mostra come varia il prezzo zonale orario ora questo varia a seconda della potenza dell'impianto che viene creato e premia di più i piccoli impianti rispetto ai grandi impianti questo anche per noi secondo noi è logico ed è buono cioè è buono perché questo decreto abbia ricevuto questa idea di premiare l'incentivo a di più la creazione di vari piccoli impianti piuttosto che megacentrali anche se fossero fotovoltaiche ecco questo schema secondo me continua a non vedersi bene questa parte comunque vedete l'energia incentivata cioè quella parte di energia che vi dicevo appunto è stata è incentivata con due parti della tariffa viene immessa in rete e viene distribuita ai vari consumatori che fanno parte della comunità stessa l'energia prodotta vedete in questo schema c'è una scuola sulla quale c'è è stato installato un impianto che viene che crea energia scusate che crea energia che viene poco indivisa questa energia viene prima autoconsumata dalla scuola successivamente quella che avanza viene immessa in rete e viene consumata dai vari membri della comunità viene consumata anche da altri quella incentivata è solo quella che viene autoconsumata all'interno della comunità stessa in questo schema di nuovo si chiarisce questo aspetto cioè per esempio questo esempio calza a pennello con il nostro vaso noi abbiamo pensato alla creazione di un impianto condiviso e quindi finanziato dall'intera comunità che è proprio un impianto da 20 kilowatt di potenza questo creerà una parte di energia nel nostro caso non ci sarà nessuna parte di energia autoconsumata perché sotto l'impianto non c'è alcun autoconsumo da parte della comunità stessa cioè non ci sono impianti di consumo dei soci ma viene tutta immessa in rete questa energia messa in rete viene consumata dai membri della comunità se la continuiamo durante il giorno viene incentivata e generano questo e il nostro salvadanaio ecco l'aspetto interessante di cui parleremo in seguito è come noi abbiamo deciso di utilizzare i soldi di questo salvadanaio che sono pari alla vendita totale dell'energia perché il nostro impianto condiviso non abbiamo il livello dell'energia più la tariffa incentivante che è quasi altrettanto più di 8 euro al megavattore che è la parte che dipende dal fatto che non intasiamo la rete ora questi sono diciamo i nomi in codice che vengono utilizzati dai vari decreti per indicare i soggetti che fanno parte della comunità sono abbastanza autoesplicativi una persona che è semplicemente un consumatore che non ha un impianto sul tetto si chiama consumer consumatore una persona che ha l'impianto sul tetto e che è però membro di una comunità è un prosumer cioè un produttore e consumatore perché produce e consuma una parte della sua energia potrebbe anche fare una parte di energia prodotta da altri impianti della rete e quindi è una figura ibrida poi ci sono anche i puri produttori nel nostro caso il puro produttore è proprio il soggetto comunità energetica ha deciso di costruire un impianto di sua proprietà quindi è un puro produttore che non consuma direttamente ma mette tutto in rete tutto questo genera incentivo che viene che alimenta le casse della comunità energetica ora la nostra comunità energetica nasce da un percorso si chiama Illuminati Sabina o Illuminati Sabina nasce da un percorso che trae origine da delle discussioni che sono nate all'interno di una comunità che già esisteva e per illustrare la quale chiamerò Vittorio a intervenire Vabbè intanto ciao a tutte a tutti sì nel senso che la fortuna che ha contraddistinto il nostro percorso è che abbiamo sempre fatto politica all'interno di ATTAC all'interno di un'associazione del territorio che si chiama conflitti e assieme abbiamo sempre ragionato di pratiche da mettere in campo per per favorire un cambiamento e una reale transizione nello specifico partiamo proprio prima del covid da un convegno che appunto come conflitti ATTAC Sabina avevamo organizzato il 29 settembre febbraio 2020 che come vedete si chiamava Clima e capitalismo un'altra narrazione è possibile dove appunto intervenivamo io e Antonio Tricarico di Recommon cioè parlando della finanziarizzazione del del clima e di Enel e in particolare i killer italiani del clima all'interno di questi ragionamenti fu proprio Antonio che si è sempre occupato più da economista dei problemi legati a consumi in particolare del fossile che però di estrazione è un ingegnere che ha fatto proprio la tesi sulle questioni energetiche e in uno dei ragionamenti che lui fece ragionò sul fatto che proprio a Montopoli c'è una centrale elettrica di grosse dimensioni assolutamente sottoutilizzata siamo al 29 febbraio il 9 marzo scatta il lockdown legato al covid e Alessandra Filabozzi è entrata in un trip che continuava a ragionare ma come ha detto Antonio perché non facciamo qualcosa per renderci indipendenti da un punto di vista energetico siccome con Antonio e con la moglie Anelia che è la presidente della Cersi Illuminati Sabina ci siamo sentiti e poi visti perché siamo in un raggio di pochi chilometri e abbiamo iniziato a ragionare se fosse possibile creare una comunità reale che ragionasse su questo e siccome conoscevamo i disposti Red 1 Red 2 Red 3 le normative europee e le prime traduzioni nazionali di questo percorso di attuazione ragionammo sulla possibilità di costituire una Cersi poi siccome come ATTAC abbiamo sempre fatto rete ci siamo sempre occupati delle questioni legate all'ambiente e alla finanza etica eravamo anzi personalmente io sono uno dei fondatori delle reti di economia solidali e con le reti di economia solidale ed altri amici tra cui in particolare Riccardo Pisi a Roma era proprio in atto un percorso che iniziava a ragionare sulle comunità energetiche solidali per cui una delle nostre capacità forti è proprio quella di fare favorire costituire reti e dall'insieme dei ragionamenti arrivamo a dicembre 2022 a costituire con 17 soci fondatori la CERS illuminati Sabina e autonomamente siamo stati in grado di scriverci all'albo del terzo settore nel senso tutto gestito con le intelligenze interne all'associazione quindi la costituzione a dicembre 2002 subito a febbraio 2023 esce un bando della regione Lazio che permette di partecipare a un banco contributi per lo studio di fattibilità dell'impianto partecipiamo e lo vinciamo cioè vinciamo 5.000 euro per lo studio di fattibilità lo studio di fattibilità l'avevamo già fermamente a quel punto abbiamo iniziato a cercare dei soggetti allineati a noi cioè nel senso che il ragionamento politico che abbiamo fatto è ci interessa cioè fare questo percorso non con costruttori di pannelli tradizionali oppure con ma cercare persone che hanno attenzione agli aspetti climatici abbiamo trovato questi soggetti questi partner lo studio l'avevamo già fatto e per cui abbiamo viaggiato molto celermente e siamo arrivati al punto come dire cioè che a giugno partiranno i lavori per mettere l'impianto comune sul nostro tetto sul tetto della nostra azienda agricola biologica noi abbiamo fatto un comodato d'uso gratuito alla CERS e questo è l'altro passaggio fondamentale cioè anche qui come diceva con la solita intelligenza e lungimiranza guido è fondamentale saper costituire comunità fare comunità però anche lì cioè fare comunità a volte è difficile secondo me la fortuna è che l'azienda agricola al Borgo del Viandante di sua natura come dire cioè è un progetto pilota cioè noi produciamo olio biologico siamo biologici abbiamo creato un bioorto popolare dove otto famiglie come dire cioè coltivano assieme e producono in zona abbiamo fatto un bioforno popolare dove due volte al mese produciamo pane come dire cioè chi porta il lievito produce il pane per cui noi la comunità l'avevamo già costituita creata e abbiamo fatto una premessa valoriale al nostro statuto come dire perché ci interessavano sostanzialmente due aspetti nell'articolo che abbiamo pubblicato sia sul granello che su comune punto info io Alessandra la comunità intelligente la comunità cioè non è che basta essere una comunità la comunità deve essere intelligente intelligente in che senso come dire cioè che deve essere accomunata da dei valori forti e quello che noi abbiamo messo nella premessa valoriale che fa parte proprio del nostro tessuto e proprio statuto cioè dice che noi questo ve la leggo perché è più semplice che raccontarla ci associamo non per ottenere semplicemente un risparmio economico sulla tariffazione delle nostre utenze individuali ma perché spinti dalla volontà di favorire la salvaguardia di madre terra attraverso l'uso di tutte le fonti energetiche rinnovabili obiettivo ultimo da conseguire passo dopo passo è il raggiungimento di una completa autosufficienza energetica e un contestuale abbandono di fonti energetiche rinnovabili da fossile sia per gli associati che possibilmente per tutto il territorio sabino nel senso che noi ci associamo ma la premessa per associarsi e siamo sempre stati una realtà che si definisce in statuto antifascista e antirazzista ma fortemente inclusivi è la comprensione da parte di chi si avvicina a noi che la priorità è non il senso proprietario e quindi individuale del risparmio in tariffa che perseguiamo e che ci interessa raggiungere ma prima di questo quindi a monte di questo c'è proprio la risposta di una solidarietà ambientale per risolvere per contribuire dal BAP a provare a intervenire sulla crisi ambientale la solidarietà sociale e quindi come dire noi creiamo un salvadanaio dove la quota rilevante del nostro risparmio c'è una quota rilevante viene messa in quello che noi chiamiamo il salvadanaio dell'associazione il salvadanaio sociale per consentire alle persone fragili di questo territorio il territorio della Sabina è un territorio complesso con una grossa concentrazione di anziani e con tutta una serie di valli dove è difficile arrivare casa per casa a mettere i pannelli a fare l'impianto e quindi come dire noi abbiamo deciso di farci carico di una di queste una quota di queste situazioni per farla breve in pochissimo tempo come dire passiamo dai 17 soci fondatori a circa 44 risolviamo il problema dell'autofinanziamento autotassando ci decidiamo anche se abbiamo relazioni con gli enti del territorio in particolare comune di muoverci autonomamente perché in una prima fase vogliamo evitare come dire c'è un'eccessiva burocratizzazione o burocrazia che quando entri in contatto con gli enti pubblici evidentemente trovi ed impatti e quindi c'è c'è autotassiamo e c'è troviamo le risorse interne per finanziare l'impianto comune di 20 kilowatt che metteremo sul tetto del nostro fienile più altri due impianti uno come dire c'è per il far bisogno della nostra azienda agricola quindi su un'altra parte del tetto della nostra proprietà metteremo un altro impianto di 8 kilowatt e un altro sempre limitrofo in questa zona di 4 kilowatt per cui in prima battuta qui 32 kilowatt come dire c'è che partono da giugno e poi inventati secondo me soprattutto per il lavoro cioè noi abbiamo un direttivo veramente motivato e operativo come dire c'è siamo tra le 7 e le 9 persone come dire c'è sempre attenti anche alla questione di genere quindi ad avere dei rapporti molto sbilanciati verso le donne sbilanciati verso le donne e devo dire però come dire c'è che poi spesso come in tutte le esperienze di comunità come dire c'è ci sono avanguardie che trascinano il lavoro di Alessandra di Aneglia e di Antonio come dire c'è ci ha reso punto di riferimento per tutto il territorio e anche con richieste di interventi di spiegazione a livello nazionale cioè con presenza di battiti semi compagnia bella vado a chiudere dicendo che tutto questo lavoro ha fatto sì come dire c'è che abbiamo preso degli accordi con una grossa comunità valdese come dire c'è che ha una chiesa a Forano il lavoro di uno dei nostri soci membri del direttivo Claudio Bergamo ha fatto sì che hanno presentato una proposta al loro direttivo nazionale in Valpe lo chiamo direttivo forse non è il termine adatto per una chiesa per finanziare un altro impianto di 20 kilowatt che rimarrebbe sempre sotto l'accordo della Cers Illuminati Sabina di cui alcuni di loro sono già diventati soci e nelle zone limitrofe che qui sono state tagliate in maniera assolutamente illogica rispetto alle dinamiche del territorio altre aziende perciamadre l'azienda agricola testa stanno come dire cioè valutando di anche loro di associarsi a noi e poi come vi diceva Alessandra avete visto che nel grafico è fondamentale il consumo per avere incentivi quindi nel momento di massima produzione deve essere consumata una quota di energia per fare questo come dire c'è servono anche consumatori e allora anche lì siamo entrati in contatto con una grossa sartoria che lavora per una delle stiliste italiane importanti cioè che hanno bisogno di un impianto compreso tra i 35 e i 50 kilowatt noi abbiamo tetti a disposizione da parte dei soci perché alcune di noi come vi dicevo sono aziende agricole biologiche quindi hanno delle superfici adatte e disposte nel modo corretto e quindi anche lì come dire stiamo chiudendo questo tipo di accordo dico due cose per per chiudere stiamo facendo degli accordi come dire abbiamo conosciuto un'altra rete un'altra cera importante qui nel territorio a Torrita Tiberina e con loro invece lavorano in accordo con il comune e con loro stiamo provando a costituire proprio un coordinamento locale di tutte le certe le realtà che vorrebbero partire con questo tipo di percorso internamente stiamo affrontando due problemi uno è quello come regolare i rapporti con i soci solo consumatori e l'altro come dire è come riuscire a garantire anche per i nuovi impianti l'autofinanziamento e forti un po' delle esperienze che abbiamo costruito nel tempo soprattutto i rapporti con le mag stiamo provando a ragionare se riusciamo a creare un modello mag interno dove le persone che hanno del capitale a disposizione magari rinunciano a uno o due punti percentuali di interessi e finanziano a tassi ridotti le nostre attività e fino adesso il nostro percorso ha funzionato così e lo vorremmo consolidare ultimo punto che tocco questo è il passaggio politico c'è tutto c'è di fatto le normative red come dire c'è una parte delle normative red riguarda il favorire il cittadino come dire come autoproduttore di energia la traduzione operativa è nelle procedure del GSE che se non sbaglio è il gestore servizi energetici nazionale o è una cosa folle nel senso che noi eravamo terrorizzati perché nei vari passaggi temevamo come dire il disincentivo economico invece sono riusciti a creare un meccanismo che per noi che ci occupiamo di agricoltura è classico come dire c'è una democratizzazione tale e una quota di iter da adempiere dove noi ci salviamo come dire c'è perché ripeto Antonio Aneglia e Alessandra sono toste con una capacità veramente determinata di andare avanti però sono 200 pagine di normative con dei passaggi e delle tempistiche folli che richiedono evidentemente l'affidarsi a degli specialisti del settore e come avrete visto l'80% delle pubblicità televisive dell'ultimo periodo come dire c'è riguarda proprio le multiservizio di qualunque zona e localizzazione geografica che offrono i pacchetti chiave in mano quindi di fatto c'è una modalità che disincentiva il cittadino singolo come dire c'è e ti propone di affidarti come dire c'è agli specialisti che ti chiederanno una quota di contributo così mangeranno una quota del possibile risparmio disincentivando questo tipo di operazione su questo credo come dire c'è come ci diceva con chiarezza Guido che dovremo saper fare rete produrre dei documenti di critica forte e provare anche su questo a fare massa critica per poter incidere in maniera più più incisiva e ridò la parola alla fila bozzi allora grazie l'avete finito per il momento sì forse potevo aggiungere solo una piccola cosa cioè sempre al fatto di aver messo insieme i contributi di chi voleva a seconda delle proprie capacità economiche per finanziare l'impianto comune abbiamo deciso utilizzare i soldi che entreranno sia dalla vendita dell'energia che dalla energia condivisa mettiamo da parte un 20% per quello che chiamiamo il fondo salvadanaio per le attività sociali sempre il resto viene prima utilizzato per restituire i finanziamenti ai soci che hanno prestato i soldi della comunità e poi decideremo come utilizzare questo ingresso di denaro che fra 5 anni dovrebbe essere restituito totalmente se utilizzarlo per fare nuovi impianti oppure utilizzarlo tutto solo per scopi sociali questo però lo decidiamo anno per anno e prendiamo le decisioni in assemblea perfetto grazie ad Alessandra Vittorio per la chiarezza e anche per l'entusiasmo che hanno trasmesso allora abbiamo diciamo una mezz'ora abbondante per domande e risposte io intanto dalla chat dico subito allora che Lamberto chiede a Guido Viale se può scrivere in chat i due libri che ha citato Ernesto Cesarini fa una domanda aviale io l'ho già fatto ok Ernesto Cesarini fa una domanda aviale a me non si capisce perché a me che non c'è entro stasera però dice ritenete che il mondo occidentale abbia gli strumenti culturali di base profondi filosofici per affrontare in modo adeguato la transizione ecologica io propongo di non rispondere a questa domanda scusa Ernesto ma ovviamente richiederebbe del tempo che c'entra poco con l'argomento di questa sera qualcuno che non è Anita Lamberti ma non mi ricordo come si chiama però è segnato come Anita Lamberti dice ma chi e con quali risorse vengono pagati i benefici economici alle comunità e ai singoli produttori quindi questa è una domanda per Alessandra Vittorio poi altra domanda gli incentivi per finanziare le comunità energetiche come e dove si possono presentare le domande poi si richiedono se quando manderemo la registrazione manderemo anche le slide che avete fatto vedere immagino di sì ma chiedo conferma ad Alessandra per il momento non ci sono altre domande allora io prima di dare la parola ad Alessandra ah no Sonia dice in città come può svilupparsi una comunità energetica prima di dare la parola ad Alessandra e Vittorio insomma chiederei se ci sono altre domande in modo che le raccogliamo e poi diamo la possibilità a loro di rispondere a tutto quanto quindi diciamo chi vuole fare una domanda o alza la mano o si segna o la scrive direttamente in chat se non ci sono domande io darei subito la parola ad Alessandra allora sto leggendo quindi vado dalla fine in città come può svilupparsi una comunità energetica allora come in altri luoghi cioè bisogna creare una comunità di persone che decide di associarsi e di mettersi insieme per fare questo lavoro come avevo illustrato prima a Roma si è creato ce ne sono anche altre rispetto a queste della rete delle comunità energetiche rinnovabili solidali ma c'è una rete che si chiama CERS Roma e immagino adesso io non lo so cosa succede territorio nazionale in altre città però c'è la possibilità soprattutto seguendo il percorso del rete di economia solidale di seguire quello che succede però la cosa importante come scrivevamo anche nel nostro articolo il primo modo per fare una comunità energetica è creare una comunità che può essere anche costituita all'inizio da due persone cioè un produttore un consumatore non c'è bisogno di essere 150 quindi una comunità energetica può partire anche soltanto da due persone l'altro dato è quello di come si finanzia ecco come vi dicevamo noi ci siamo autofinanziati perché non ci sono finanziamenti a fondo perduto a meno che non si risieda in comune in comuni sotto i 5.000 abitanti in questi comuni sono previsti dei fondi del PNRR per un tempo limitato che prevedono finanziamenti fino al 40% sulla base di regole stabilite degli impianti fotovoltaici se questi sono sotto i 20 kW le spese ammissibili sono fino a 1500 euro a kW di potenza installato altrimenti più cresce la dimensione dell'impianto e minore l'incentivo cioè l'incentivo il finanziamento ammissibile però tutto questo viene fatto a valle quindi a chi ci chiedeva tutto questo esiste già esisteva sulla carta noi eravamo pronti a partire ma abbiamo aspettato l'uscita dei decreti che ci consentono di presentare la domanda di finanziamento di cui stiamo parlando perché noi siamo appunto in un comune sotto i 5.000 abitanti però dobbiamo anticipare le spese di tutto l'impianto per capirci il nostro impianto da 20 kilowatt comprese tutte le spese gli allacci eccetera ci costerà 35.000 euro noi dobbiamo anticipare tutti questi soldi per poter costruire l'impianto nel frattempo presentare la domanda aspettare che questo o meno vedere quali finanziamenti ci sono altrimenti l'altra unica strada possibile è un prestito infatti un'altra cosa che avevamo pensato prima di elaborare questa strategia diciamo di mag locale era quella di affidarci a banca etica presso l'anno abbiamo aperto un conto e quindi abbiamo indagato anche la possibilità di farci finanziare tramite banca etica che ha comunque sta sviluppando comunque un'attenzione particolare verso le comunità energetiche quindi potrebbe essere interessante posso scusa su questo altre due integrazioni intanto la certa tradizionale può essere fatta su qualunque condominio di un'area metropolitana per quello che vi è detto Alessandra che la cabina primaria copre delle aree importanti qualunque accordo tra singoli del quartiere o a volte il singolo condominio può essere già una realtà sufficiente per creare la comunità che come diceva Alessandra può essere costituita da due persone sul ragionamento dei finanziamenti i finanziamenti la quota del PNRR che è stata utilizzata per finanziare gli impianti nelle città sui 5 mila abitanti è una parte del finanziamento per la transizione ecologica per cui si dice sembra pare che ci saranno altri finanziamenti per le aree di dimensione diversa che quindi riguarderanno probabilmente le aree metropolitane vedevo le altre domande se posso dunque se le hai viste vai se no te le dicevo io un privato che abbia già installato i pannelli dunque i pannelli già installati possono se sono successivi al dicembre 2021 possono essere considerati nell'impianto nella CER purché la potenza di questi impianti sia inferiore al 30% del totale facciamo un esempio se noi installiamo 20 kilowatt nuovi possiamo mettere nella comunità impianti per il 30% di 20 ok quindi persone che abbiano già altri impianti se noi abbiamo 100 kilowatt possiamo prendere 30 kilowatt di altri impianti installati però dopo il 2021 e purché non siano impianti che abbiano sovruito del bonus 110% quelli sono tutti inoltre che vantaggio avrebbero le due parti mi chiede qualcun altro ecco il vantaggio anche di uno che ha i pannelli che condivide l'energia in più con un'altra persona è questo flusso di denaro di incentivo che è pari quasi alla flusso dell'energia venduta quindi chi vende l'energia avrebbe la venduta dell'energia il provento della vendita ma la comunità che hanno costituito avrebbe l'incentivo di circa 128 euro al megawattura che poi dovrebbero stabilire come dividersi potrebbero anche dividerselo questo contributo certo non sarebbe una cerra solidale un'altra domanda come ci siamo mossi per reddare il regolamento e lo statuto lo abbiamo redatto noi anche però con la collaborazione del gruppo comunità energetiche rinnovabili di Roma solidale con cui abbiamo avuto uno scambio abbiamo fatto dei gruppi di lavoro in questo gruppo CERCE Roma in cui abbiamo lavorato sugli statuti condividendo un po' le idee in principio e poi ci sono varie società che presentano impianti o comunità chiave in mano come ci si può difendere noi siamo andati ad alcuni incontri anche di promotori di questo genere di cose e non abbiamo aderito perché si capiva bene insomma che lì non ci sarebbe stato a nessuna comunità e nessuna comunità solidale come ci si può difendere secondo me non aderendo bene non ci sono altre domande al momento quindi se qualcuno io volevo aspetta aspetta scusa Vittorio perché invece ce ne sono allora nella CERCE è possibile accumulare l'energia prodotta e una poi come avviene il pagamento delle bollette bisogna ancora pagare tutto prima al distributore poi arriveranno i calcoli e la terza è chi ha un ampianto del 2011 che sta usufruendo dell'incentivo dell'epoca e però si è fermata lì non si capisce cosa vuole chiedere allora dunque come avviene il pagamento delle bollette ognuno mantiene il proprio riferimento se sto con il nostro mantengo il nostro se sto con l'Enel con l'Eni con Chiuto quindi ognuno paga il proprio gestore poi i conti li tiene il GSE che è il gestore nazionale che è sopra i rivenditori individuali di energia elettrica è il gestore il GSE che fa questi conti dell'energia scambiata e provvederà a versare nelle casse della comunità energetica gli incentivi chi ha un impianto del 2011 che sta usufruendo dell'incentivo non lo so non lo so quindi non voglio dire una cosa che non so gli accumulatori si sono previsti sono anche nei finanziamenti si perde un po' il senso dell'energia condivisa cioè se si accumula l'energia non ce n'è più per la condivisione però quella in eccesso dell'accumulo si potrebbe lo stesso condividere sono previsti anche negli incentivi nei finanziabili dei fondi PNRR Claudio Britti che è quello che aveva scritto quella parziale domanda chiede alzato la mano quindi se vuoi dire scusa non ho capito buonasera a tutti stava chiudendo le risposte quindi ho mandato quella mezza domanda in effetti la domanda era questa era completa era questa cioè io posseggo un impianto fotovoltaico di sotto i 3 kilowatt ovviamente del 2011 e stavo soffrendo degli gentili statali del dal GSE posso far parte di una comunità energetica o no dunque dipende se il contratto è del tipo scambio sul posto o ritiro dedicato sì e scambio sul posto allora bisogna passare scambio sul posto sì si può fare però bisogna vedere bene il tipo di contratto gli incentivi di cui parli suppongo siano incentivi diciamo fiscali sì sì no è proprio un erogato come devo dire diciamo al rimborso della spesa sostenuta parziale sono 47 centesimi a chilo no aspetta è 2011 non avevo letto bene no non puoi cioè solo gli impianti dopo dicembre 21 sono consentiti come diceva prima Ale nella percentuale del 30% all'interno della CERS ho capito non avevo capito l'anno la risposta è no ok non avevo capito l'anno sì l'aveva detto ma mi pareva di aver capito precedente grazie per la risposta allora c'è un'altra domanda potete chiarire meglio i rapporti interni fra i partecipanti della vostra CERS se ho ben capito voi sareste anche prosumer o gli impianti fotovoltaici sui vostri tetti sono di proprietà della CERS a cui avete dato i tetti incomodato sì ci sono tutte e due le cose come facevo vedere in quella slide cioè noi siamo prosumer come azienda agricola quindi abbiamo avremo un impianto da 8 kilowatt dal quale trarremo la nostra energia autoconsumo e quella in eccesso la metteremo a disposizione della comunità poi su un altro tetto che è il tetto di un fienile grazie a un comodato d'uso che abbiamo fatto con la comunità installiamo l'impianto comune da 20 kilowatt questo sarà l'impianto comuno pagato da tutta la comunità di proprietà della comunità e sarà solo produttore poi ci sarà un altro impianto presso un'altra casa da 4 kilowatt e questi sono i primi tre impianti quindi per un totale di 32 kilowatt che corrispondono allo studio di fattibilità iniziale che c'era stato finanziato dalla regione Lazio e che quindi ora attuiamo nella prima fase bene direi che la prima serie di domande è stata ha ricevuto adeguata risposta non ci sono altre domande quindi se non c'è altro noi possiamo anche chiudere qui credo che l'iniziativa abbia suscitato importanti interessi ovviamente poi si tratta ciascuno di andare a vedere cosa può fare concretamente però diciamo il messaggio che si può riprendersi il comune a partire dall'energia mi sembra che sia stato lanciato adeguatamente che soprattutto dimostra che sono possibili esperienze concrete e quindi ancora grazie a Guido Viale a Alessandra Filabozzi e Vittorio Lovera che ci hanno permesso questo approfondimento ci salutiamo l'appuntamento per tutte e tutti è lunedì 20 marzo alle 18 dove parleremo di riprendiamoci il comune a partire dalla sanità in particolare ci sarà Edoardo Turi di Medicina Democratica e Forum Difesa della Salute che farà il quadro del Servizio Sanitario Nazionale che come potete ben immaginare è un quadro abbastanza fosco e poi ci sarà invece l'esperienza concreta in particolare di Saronno ma non solo a Saronno in Lombardia sono stati aperti 30 sportelli popolari per combattere la questione delle liste d'attesa interminabili e far ottenere ai cittadini e le cittadine le visite nei tempi previsti dalla normativa quindi sarà anche quella diciamo una riflessione complessiva ma anche poi la possibilità di capire come fare concretamente azione nei propri territori e dentro le proprie comunità grazie a tutti che avete partecipato a parte che ci incrociamo in 10.000 iniziative ma ci rivediamo in particolare lunedì 20 marzo ciao a tutti e buona serata grazie ciao buona serata a tutti ciao a tutti